E' scomparsa una donna di 55 anni di età, la quale è uscita prima dal lavoro ed è letteralmente scomparsa nel nulla. Si chiama Gaynor Lord, 55 anni di età, ripeto. Pensate che è stata bestata l'ultima volta mentre si stava dirigendo verso la cattedrale del centro di Norwich. Ci troviamo non qui in Italia, ma ovviamente forse in Inghilterra o in Scozia. Ora, le forze dell'ordine, quali uguali da sommossatori e da polizia, la stanno cercando in maniera piuttosto insistente. Non si sa che fine abbia fatto. E' scomparsa, è una madre di ben tre figli, da ben cinque giorni è ricercata, direi sono perse le tracce. Non ha problemi psichici o psicologici, però sta facendo preoccupare tutti quelli che la conoscono. E sono tanti, anche perché è una donna amabile, simpatica e piacevole. Che cosa ha? Che fine ha fatto? Dove si trova? Chi lo sa? Ai posti di largo certezza. Se qualcuno la trova, me lo faccio sapere. Gaynor Lord, speriamo che ti venghi trovati presto.